Lo sapete chi è il miglior tiratore da tre punti di tutto il campionato italiano? Un agente immobiliare. È vero, eh? Giuro, il miglior tiratore da tre punti di tutto il massimo campionato italiano è un agente immobiliare. Ed è vero, numeri alla mano è così. Però andiamo con ordine, cominciamo dall'inizio per capire bene di che cosa stiamo parlando. In data, se non erro, 27 luglio 2018, quindi quest'anno, ok, in mercato estivo, la pallacanestro reggiana comunica l'accordo con Spencer Butterfield, guardia statunitense, classe 1992, che firma un accordo di durata biennale con opzione di uscita bilaterale al termine della prima stagione. Che cosa ci dice tutto questo? Ci dice che Reggio Emilia ha firmato una guardia, un giocatore che ha già importanti esperienze, tra l'altro, in Europa, e l'ha firmato anche con una certa progettualità. Il contratto biennale fa capire che sul giocatore c'è un certo tipo di investimento, non soltanto economico, ma anche come ruolo in squadra. Questo perché il giocatore, ripeto, ha già un curriculum interessante, esperienze europee, proviene direttamente dall'Alba Berlino, in Germania, una stagione in cui ha chiuso l'anno scorso con più di 12 punti, più di 3 rimbalzi, il 45% abbondante da 3 punti. Questa caratteristica è una caratteristica da segnalare, perché se scorriamo un po' tutto il curriculum appunto di Spencer Butterfield, ci accorgiamo che in tutte le sue esperienze, con tutte le squadre con cui ha giocato, ha sempre mantenuto un'ottima percentuale dall'arco. È una caratteristica fondante di questo giocatore, che può di buon grado essere definito un tiratore, uno specialista. Se andiamo a retroso negli anni, ripeto, 45,1% l'anno scorso, l'anno prima i 46,4%, l'anno prima ancora più del 42%, l'anno prima ancora quasi il 44%. Se andiamo ancora indietro nel tempo, finiamo agli anni dell'NCAA, quando giocava con Utah State, e viaggiava anche in quel caso in due stagioni, 42,5% e 46%. Si tratta quindi di un giocatore importante, con la mano molto molto educata. C'era addirittura, e erano più di uno, io me le ricordo, tanti che dicevano, in relazione al mercato della Reggiana di quest'anno, che il vero colpo di mercato non era tanto Ricky Ledo, che sì, era un giocatore di grande talento, soprattutto offensivo, ma che aveva delle incognite, perché poi bisognava cercare di farlo adattare ad un sistema piuttosto rigido, come quello che c'è in una squadra europea, in una squadra italiana, come Reggio Emilia. Piuttosto, il miglior giocatore, l'acquisto più importante che era stato fatto, era stato quello di Butterfield, perché era un giocatore affidabile, tiratore, esperienze europee, un giocatore su cui poter costruire qualche cosa, e da qui probabilmente anche l'accordo biennale. Che cosa è successo? Butterfield inizia la stagione con Reggio Emilia, tra l'altro i numeri sono anche numeri importanti, perché se guardiamo ha giocato 4 partite, quasi 16 punti, 2 rimbalzi, 2 assist e mezzo, un massimo di 20 punti segnati a Torino contro l'Auxilium, ma soprattutto, e torniamo al dato di apertura del video, 16 su 30 complessivo da 3 punti, in 4 gare giocate fa oltre il 53%, è una percentuale irreale, talmente importante, che oggi, che Butterfield non gioca più da 6 giornate, quindi ne ha giocate solo 4 delle prime 10, rimane tuttora il miglior tiratore da 3 punti. E perché dico che il miglior tiratore da 3 punti del nostro campionato fa l'agente immobiliare? Lo vediamo subito. Il 2 di novembre, esattamente il 2 di novembre, Reggio Emilia che già aveva dei problemi, già stava venendo fuori il caos relativo a Richiledo, si allena regolarmente come un giorno normale, ma Spencer Butterfield si fa male. Vengono fatti tutti gli accertamenti medici del caso, e gli viene diagnosticata una lussazione metatarsofalangea del secondo dito del piede destro, stop stimato in 5 settimane. Una brutta tegola, una bella botta per la Reggiana. L'unica nota forse positiva è che nell'intervallo di tempo che intercorre in queste 5 settimane, c'è la pausa per la nazionale, per cui Butterfield non si sarebbe perso 5 partite, ma 4, il che comunque tornava comodo. Passano i giorni, si arriva alla fine del mese di novembre, e cominciano a uscire delle notizie che non lasciano presagire nulla di buono. In particolare, 24 novembre, si parla per la prima volta di rottura definitiva tra Butterfield e la Reggiana, perché pare che il giocatore sia volato negli States, d'accordo con la società, e che però non sia tornato nei tempi stabiliti. Qualche giorno di silenzio, qualche rumors, qualche notizia, si arriva al 6 di dicembre, risoluzione ufficiale del contratto tra Reggio Emilia e Spencer Butterfield. Ora, per chiarire un po' meglio la questione, ci affidiamo alle parole di uno dei protagonisti principali di questa vicenda, che è il DS di Reggio Emilia, Alessandro Frosini, il quale, intervistato successivamente, su Spencer Butterfield, dice Lui ci ha deluso più di tutti. Con la scusa di poter avere una seconda opinione sull'infortunio al piede, è letteralmente scappato negli USA. All'inizio, non capivamo ma quando il quadro è stato chiaro, ci siamo accorti che aveva svuotato l'appartamento e non rispondeva più al telefono. Da lì è iniziato uno scontro duro a suon di lettere degli avvocati, che ha portato poi alla rescissione del contratto. Quindi, ricapitolando, Butterfield, con una scusa, stando alle parole di Frosini, ovviamente poi non siamo all'interno di queste dinamiche, per cui ci dobbiamo un po' affidare di quello che ci viene detto, è andato negli States e non è più tornato. Siamo arrivati alla risoluzione del contratto. Nel frattempo, aggiungo io, chi lo segue sui social, basta seguirlo su Instagram, si accorge che Butterfield comincia a postare una serie di foto corredate da Didascalie, in cui dice che per lui è cominciata una nuova avventura, ha cominciato a fare quello che era, testuali parole, il sogno della sua vita, ossia l'agente immobiliare. Cioè, il miglior tiratore a oggi del nostro campionato fa, ed è il sogno della sua vita, l'agente immobiliare. Ora, al netto che, normalmente quando ti immagini il sogno della vita di un bambino, ti puoi immaginare il giocatore, no? L'astronauta, il giocatore di calcio, di basket, ma un giocatore a livello professionista, diciamo anche a buoni livelli europei, non saranno i massimi, ma buoni livelli europei, che sogna di fare l'agente immobiliare, siamo veramente al top. Però, al netto della parte curiosa, no? Divertente di tutto questo, perché si parla oggi di questa storia? Premesso che su questo canale i caratteri più strani, più bizzarri della palla a canestro ci saranno sempre, perché mi piacciono, va bene? Questa storia è importante perché, secondo me, è purtroppo non l'unico, ma uno degli emblemi di quello che è il problema principale del nostro campionato. Perché è vero che troppo spesso, alle volte, si parla del fatto degli stranieri, e allora ci sono troppi stranieri, bisogna ridurre il numero di stranieri, no, bisogna aumentarlo, bisogna dare spazio agli italiani, eh, ma gli italiani per poter giocare devono avere un settore giovanile importante, bisogna fare investimenti sul settore giovanile, tutto vero, sono discussioni che si fanno da tanti anni e che sono anche molto, molto importanti. Ma secondo me, alla base, cioè prima ancora di poter pensare al regolamento, il numero di stranieri, gli investimenti economici, tutto quello che volete, alla base di tutto c'è l'affidabilità. Questa è la parola chiave. Secondo me, il nostro campionato deve recuperare affidabilità. E ripeto, prendiamo la situazione di Butterfield al Reggio Emilia, a esempio, ma non che sia l'unica, anzi, ce ne sono moltissime altre, la prendiamo a esempio perché è l'ultima in ordine di tempo, ma al nostro campionato manca proprio affidabilità, intesa come anche serietà di impegno. Voglio dire, una squadra che comincia un campionato dovrebbe dare delle garanzie economiche, ma non soltanto, di poter arrivare in fondo a quel campionato. Invece troppo spesso vediamo delle situazioni delicate, delle situazioni che possono essere il preludio a qualcosa anche di peggiore. Mi viene in mente Cantù che qualche settimana fa non si sapeva neanche se avrebbe finito il campionato, giocatori che forse venivano messi sul mercato. Ora sembra che piano piano la situazione si stia, l'allarme stia rientrando, però ne è scattato un altro che è quello di Avellino. Addirittura si dice Norris Cole e Caleb Green potrebbero avere già degli interessi da parte di squadre europee perché la società non può trattenerli. Insomma, anche lì poi non siamo all'interno delle dinamiche societarie, per cui non sappiamo la verità fino in fondo. Però sono tutte voci, sono tutte situazioni che non fanno bene all'immagine del nostro basket. Ripeto, una squadra che inizia il campionato dovrebbe dare garanzie assolute di poterlo finire. Poi può andare bene, può andare male, si possono raggiungere gli obiettivi, si possono non raggiungere, ma non esiste che arriviamo a metà della stagione e dei giocatori non rispettano i contratti e se ne vanno. Ripeto, Butterfield, ma non l'unico, ce n'è una lunga lista di giocatori che anche negli anni passati sono finiti, non si sa bene come. Squadre che cominciano e non si sa se arriveranno alla fine. mi viene in mente Caserta in diverse situazioni negli anni scorsi, il caso più eclatante è quello della palla a canestro Napoli che poi si fece in quella stagione, mezza stagione con gli Juniors in pratica, falsando tutto il campionato. Perché poi succede anche questo, voglio dire, andiamo all'assurdo, andiamo al fatto che Avellino non riesce a trattenersi Norris Cole e Caleb Green. È chiaro che chiunque affronterà Avellino dopo non avrà affrontato la stessa squadra di quelli che ci hanno già giocato e magari ci hanno anche perso perché mia personalissima opinione Caleb Green e Norris Cole sono il miglior numero 4 e il miglior playmaker del campionato. Per cui se perdi loro è chiaro che le aspettative della stagione diminuiscono, no? Per cui si falsa tutto, diventa una situazione onestamente insostenibile. Questo per dire che secondo me è un'opinione personalissima e quindi di nessunissimo valore però andava valeva la pena secondo me parlarne a questo punto della stagione la prima cosa sulla quale si dovrebbe investire ad alti livelli nella nostra pallacanestro è l'affidabilità cioè risanare l'immagine che diamo del nostro basket all'esterno perché questo è la primissima cosa per poter avere anche degli investimenti importanti da parte di realtà del nostro territorio da parte di giocatori che potrebbero venire a giocare da noi e alzare il tasso tecnico ma anche mediatico del nostro campionato potrebbe davvero ripartire un po' il tutto altrimenti purtroppo queste situazioni rischiano di essere sempre più frequenti rischiano di essere altrimenti rischiano di essere ovo per poter rischiano di essere giocatori rischiano di essere